Celebrazioni in tutta Italia per il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver deposto la corona al sacello del milite ignoto in Piazza Venezia a Roma, si è recato a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, che il 29 giugno 1944 fu luogo di un uccidio nazista di 244 civili. Presenti in Piazza Venezia a Roma le più alte cariche dello Stato, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera Senato Fontana e La Russa, insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Manifestazioni si sono svolte in tutta Italia, alta tensione per i due cortei organizzati nella capitale da Brigata Ebraica e dai pro-palestinesi. Grazie 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 Grazie